Allo ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi mi avvarrò della presenza di nikeva che è una nota street artist che disegnerà tutto quello che io dirò in questo piccolo cappello introduttivo di questo vlog siamo pronti a cominciare su da questa parte perché Quello lì è il suo profilo migliore Vorrei dire che non sono così grassa come sembro in questo video ma con la camicia mi sta molto male Come ogni anno a settembre arriva il momento di farvi vedere il filmino delle vacanze quest'anno sono andato in africa in special modo in Egitto questo diabolico che vedete per nikeva è una donna col burka vi giuro che è la stessa identica insegna del kebab baro che c'è di cancro a casa mia Sono andato in egitto ma non nella zona delle piramide che quella del cairo che sta a nord bensì sul mar rosso Non sulla penisola del sinei dove c'è charme ma un po più sotto però è il che si Benissimo detto questo ringraziando nikeva per il preziosissimo aiuto ed eugenio per le preziosissime riprese Possiamo cominciare con le diapositive anni 70 buon viaggio a voi la linea Salute Antonio No Grazie a tutti. 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 Ciao.